Dopo il periodo di chiusura a causa Covid, quest'anno si sono riaperte le porte del presepe vivente dello storico quartiere arabo ed è stato un gran successo di pubblico. Betlemme agli Angeli ha registrato migliaia di visitatori, portando sempre più persone tra i cortili della città antica, persone pronte a rivisitare la nascita di Gesù immergendosi all'interno di un'intera comunità. L'appuntamento dunque è rinnovato per il Natale 2023 per rivivere le emozioni che ha dato il presepe vivente agli Angeli. È stata ed è un'esperienza straordinaria, in primo luogo per la comunità della parrocchia San Domenico, per i tanti amici che ci hanno collaborato e ci collaborano per questo grande evento. Ma è una bellissima serata davvero per tutta la città e per le tantissime persone che da diverse parti della Sicilia sono venute a visitare il nostro presepe. Un momento di amicizia, un momento di incontro, un momento di comunione e anche con Gesù Bambino presente in mezzo a noi, ma anche con una comunità che cammina, che si impegna e che progetta un nuovo tempo e una nuova esperienza. Circa 8.000 persone quest'anno hanno visitato il presepe. Abbiamo quadruplicato gli ingressi della scorsa edizione, ogni anno è sempre in crescita. Il prossimo anno ci aspettiamo sempre ancora novità, per questo vi facciamo l'invito a venirci a trovare perché è tutto un presepe autosostenibile. Siamo tutti un gruppo di persone, chi abita in zona e chi non. Tra parentesi io sono solamente cresciuto qua, però mi lega a questo quartiere di farlo rivivere e far rivivere la nostra città perché abbiamo un potenziale e lo dobbiamo sfruttare. Abbiamo la passione e la sfruttiamo e tutti noi animatori, così chiamiamoli, ma veramente sono delle persone che lavorano dalla mattina alla sera, abbiamo creato questa realtà.